Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale La Taverna dello Svapo, io sono Gabri, io Birillo, oggi rientriamo a recensire altri liquidi presi dal Vapitali, il Vap e i Vap, sono 4 liquidi che andremo a provare, sono francesi, andiamo a fare la prova di svapo e poi a far tirare le nostre conclusioni, vai, con quale vuoi partire? Questa qua è Tamarino, sarà Tamarino, provo a partire, io sento della menta probabilmente, mora, con le morositas, ci sta, vai, dassi una prova, c'è da una drippata, vado sempre a provarlo con la mia Noise 22, con il Goon 22, io con il Bermes sulla Noise Ficcate 25 Calvare, io sento della menta, la menta soprattutto, controllate, ma anche fa gli altri, vado nel suolo, chiamate, guardate, dobbiamo farle, guardate, 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 guardate... guardate, guardate... guardate! Per cosa sta regando? Non lo capisco, non lo capisco, però non potele per me sbappare, io sento la menta, veramente soprattutto mente morati mente morati proprio del genere no non è malissimo non è malissimo io l'ho mandato un po' troppo no non capisco mora mente che voto ci dai? 3 sembra quasi un sapone per la moquette da rot wash io non lo faccio io ci do 5 ma mente non è malissimo devo fare la prova olfattiva e prova di svapo del red mandril andiamo a fare una prova olfattiva io ci sento frutti rossi frutti rossi frutti rossi frutti rossi andiamo a drippare non lo so stico stico non mi piace no di detersivo è detersivo questo no a me non mi piace è detersivo è detersivo ragazzi lo comprate qui del birovina sicuramente tutto il bottone da cambiare questo qua di impesta al bottone adesso non so neanche se sentiremo gli altri andiamo a seccarlo bene che modo ci dai questo liquido? zero io 3 ci sono un po' 3 penso che non compreremo mai c'è una somma che c'è una data rapita come ormai conseguiamo questi liquidi qua con il t-gorilla andiamo a fare sempre la nostra prova olfattiva poi i francesi sono un po' strani hanno questi gusti strani nel mangiare non lo so però non capisco questo liquido ma ci senti niente niente non ci sento niente non ci senti niente andiamo a fare la nostra prova di svapo va bene andiamo a fare la nostra prova di svapo questo sai cosa fa schifo fa schifo qui le bombolette che dai l'antico scoto con la madre è vero è una ricaria ahhh ma cosa è quello è quello 30 il lucida anti scoto ahahahahahahah ahah ahahah come si fumano questi frappelli ma come favore a ronrare queste liquidi qua vediamo a fare l'ultima prova di svapo dell'ultimo liquidi ma io vorrei fare l'ultima prova di svapo dell'ultimo liquidi non lo so fai spazzatura ltblond m e adesso andiamo a fare una prova fattiva sarà un tabacolo ma ormai sarà gusto un goccino basta basta un po' di pasta vai veniamo a fare la nostra prova di sbappo che cos'è questo? forse quello che è meglio quello un po' meglio ma il gusto il gusto c'è questo è davvero magico lo mettete dentro una macchina atomico questo qua può mettere dentro quelli ambi che ti... io sento ancora quello di prima ma è mezzo un sapore forse è meglio di tutti perché non si sente non si sente tanto è un gusto indecifrabile sono gusti che sono particolari magari forse un pazzo solo li può sbattare sono già nient'altro forse per fumare magari un ambiente per l'ufficio come sei la macchina come sei la macchina ti sbagliati il cruscotto allora noi vi lasciamo così non comprate questi per noi il nostro parere personale fanno scusi è solo un emblema è bello però ragazzi ci dispiace ma questi liquidi noi non li consigliamo li lasciamo così se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao ragazzi un bacio ciao